Tra lo strazio generale e l'arrivo dei parenti, facendo ripartire il traffico ferroviario congestionato da qualche ora, è avvenuto pochi istanti fa il recupero di quel che rimane del corpo esanime del 34enne monopolitano che verso le 11.30 circa ha perso la vita all'altezza della zona industriale di Monopoli, travolto da un treno regionale della Trenitalia, partito poco prima dalla stazione ferroviaria di Monopoli in direzione Bari. Le indagini, svolte a ricostruire la dinamica dell'accaduto, sono affidate congiuntamente al locale commissariato di pubblica sicurezza e al nucleo operativo e radiomobile e carabinieri della compagnia di Monopoli, entrambi a tutti sul posto. Vani sarebbero stati tentativi del macchinista di riuscire a evitare la tragedia, quando improvvisamente si è trovato di fronte al gioco. In quegli istanti pare che alcune maestranze avrebbero assistito alla madre Brasciana, richiamata per l'esperienza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.